Capitano dell'Intigione Nava analizziamo questa partita, partita che sulla carta non era facile, sul capo ancora più difficile perché il Prato ha cercato con tutte le proprie armi di metterlo in difficoltà. Sì, è stata una partita combattuta, è stata una partita che alla fine penso sia giusto anche il pareggio, abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo rischiato in un paio di occasioni ma penso neanche troppo, peccato perché dai penso che un po' più cattivi, un po' più di fortuna, un po' più di qualcosina c'è mancato davanti però insomma sicuramente è stata una buona prestazione anche oggi e un risultato positivo. Difensivamente non era facile contrastare due giocatori esperti, ex professionisti, il lavoro vostro non è mancato di certo, ve la siete sempre cavate e poi tu sei stato molto bravo in più di un'occasione a ribaltare dall'azione difensiva e portarla in avanti. No, penso che in fase difensiva tutta la squadra, perché dopo la fase difensiva è fatta un po' da tutti, insomma abbiamo fatto quello che avevamo provato, insomma loro sapevamo che giocavano molto in verticale avendo gli attaccanti forti per la categoria e penso che abbiamo tenuto bene e a livello difensivo abbiamo fatto una buona partita. Il bilancio di queste prime partite siete trovati sul vostro campo, ottimo il terreno di gioco tra l'altro. Sì, sì dai, ci mancava un po' insomma tornare qui a casa e il campo va tenuto bene, un bel campo. Il bilancio penso che sia positivo, sicuramente potevamo avere qualcosa in più, però insomma a livello di prestazioni abbiamo dato sempre continuità, quindi speriamo che adesso riusciamo a fare qualche risultato in più. Grazie.